Questa è la smorfiosa che crede di potermi rubare il trono. Una principissa del mondo animato catapultata nel mondo reale. Ehi, puoi stare un po' a te? Prontalo! E un uomo qualunque. Papà, perché c'è una principessa sul castellone del castello? Stanno per incontrarsi. Benvenuti a New York. Grazie. E tutto cambierà come d'incambio. Lunedì 21 alle 21.10 su Rai 1.